Hai già pensato a chi dare l'otto per mille nella tua dichiarazione dei redditi? La chiesa luterana è una chiesa protestante, senza grandi patrimoni e ricchezze. Ecco perché il tuo aiuto è importante, come quello dei tantissimi non luterani, che ogni anno premiano e sostengono il nostro impegno sociale. In Italia siamo presenti da cinque secoli, ma siamo una piccola realtà. Martín Lutero rivoluzionò il cristianesimo e riportò la chiesa vicina al messaggio evangelico, lontana da debolezze e tentazioni del potere. I nostri pastori, le nostre pastore, vivono una vita normale, come chiunque. Operiamo a favore dei poveri, di donne in difficoltà, migranti, bambini, ammalati e bisognosi, della cultura, dell'ambiente. Siamo una chiesa veramente aperta a tutti, senza pregiudizi, capace di evolvere con la società. Ma possiamo fare di più, con il tuo aiuto.